Il 16 maggio 2015 l'hotel Il Girasole sul lungomare a Bova Marina, Reggio Calabria, riapre ed offre i suoi servizi. In un ambiente sobrio ed elegante potrai festeggiare gli eventi importanti della tua vita, comunioni, battesimi, cresime, lauree, matrimoni e compleanni. L'hotel di antica gestione familiare offre 14 camere con bagno e balcone vista mare, dotate di tutti i comfort, aria condizionata, tv, wifi, terrazzo, solarium. Nel ristorante panoramico si possono gustare le migliori specialità della cucina tradizionale classica e rivisitata, soprattutto a base di pesce dello Ionio. Nelle terrazze della pizzeria e spaghetteria, affacciate sul mare, si possono gustare molte varietà di spaghetti e pizze particolari. Sulla spiaggia riscaldati dal sole e accarezzati dalla brezza del mare, si può godere di un ottimo servizio spiaggia, accoglienza, qualità, buon gusto. Questo è il mondo dell'hotel Il Girasole. Visita il nostro sito www.hotelilgirasole.it Contattaci al 347 16 307 16 Saremo felici di soddisfare ogni tua richiesta.